Allora Marco Zanini, Alberto Zanini, Bruno Tifi e Carlo Camilloni, adesso c'è il radiocaster. In qualche istante perché bisogna sapere che Marco Zanini ha una chitarra e forse 140 effetti, c'è l'effetto poi alcol che è quello che poi rende di più, parliamo che insomma il rock è fatto più che altro di queste cose, però sempre con moderazione, questo bisogna dirlo perché sennò sembra che siamo alcolizzati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.